16 e 14, 14 settembre 24, questa regione ottiva che è a sud della R3824, con la macchiolina, sta dimettendo un flare, un flare che è cominciato qualche minuto fa, non ci possiamo aspettare che duri molto. La classe C3, in realtà è già evidente a C2, ma vediamo qual è la sua evoluzione. La classe C3, in realtà è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. La classe C3, in realtà è vero, è vero. La classe C3, in realtà è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero. Interessante la battaglia del flare con le nuvole. No, no, no Il sole è l'unica regione brillante. Bisogna andare a est per vedere la grande regione 3824. Ci sta facendo qualche flare pure lei. Invece, oh, adesso se ne cagano le 38, 15, 38, 13. Le regioni attive sono sì evidenti, ma non accese come quella in questo momento. Pinesano è la grande regione 3825. Se adesso ci fosse un flare, sarebbe difficile capire dai soli raggi X. Se è questa la regione che stai mettendo, o è questa. Comunque questo flare lo possiamo confrontare con la regione 3824. E con la stessa 3825, benché qui l'indarkenment sia molto più efficace. Questa grande protuberanza è ancora all'embo est. Sembra in diminuzione questo flare. I tempi sono quelli di una decina di minuti. Per più piccola regione più ci si aspetta poco tempo. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.